Benvenuti a tutti, io interremmo soltanto un attimo, così vi vedo tutti, almeno quelli che riesco a vedere. Devi darmi il coso, se ti vede... No, non mi vede, ah ok, vai. Saluto. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Grazie di essere qui con me. Allora, io intanto mi presento, sono Michela Lussu, sono una psicoterapeuta, faccio parte del team del Centro Moses, in particolare sono la direttrice della filiale extra del Centro Moses, quindi con il nostro gruppo di psicologi e psicoterapeuti lavoriamo tanto con gli italiani che vivono all'estero. Allora, 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 io inizierei, adesso di nuovo dovrei condividere. Se avete qualsiasi... Vedete bene? Sì, sì. Sì, grazie. Se avete qualsiasi tipo di domanda, oppure c'è qualcosa che non vi è chiaro, io sono ben felice di ascoltarle e di darvi tutte le delucidazioni possibili. Allora, partiamo da un assunto. Io immagino che voi siate qua perché nella vostra vita spesso succede che vi criticate e probabilmente questa cosa, insomma, non ha un effetto positivo dentro di voi. Menomale che siamo alla pericognitivo, per cui ci possiamo anche bere su. No, però vabbè, a parte questo. Allora, immagino che siate qua anche perché volete capire un pochino come funziona di più il processo dell'autocritica per capire come governarla meglio. Allora, non avremo, vi premetto che non avremo tantissimo tempo per parlare di tutte quelle che sono le motivazioni, esperienze familiari, esperienze di rifiuto, di esclusione, di vergogna che nei vostri vissuti, nella vostra vita potete aver sperimentato, più che altro perché qualsiasi esperienza di vita avrà avuto un impatto differente su di voi, sicuramente avrà contribuito all'autocritica, però, insomma, non sarebbe, non è il luogo necessario per affrontare tutti gli aspetti che possono aver colpito ciascuno di voi. Però, una cosa molto importante da sapere, vediamo se va avanti, forse così, ok. Una cosa importantissima che dovremmo sapere è che se noi ci critichiamo non è colpa nostra, la colpa è di come funziona il nostro cervello. Il nostro cervello non è una macchina perfetta che utilizziamo male noi, ma è un organo che ha subito e sta subendo durante, nel processo di milioni e milioni di anni, un processo evoluzionistico e diciamo che si è evoluto per prove d'errori, senza una direzione dei lavori, per cui quella che stiamo sperimentando noi del nostro cervello è la versione più aggiornata, ma questo non significa che sia la versione perfetta. Ora, nonostante il fatto che stiamo registrando non fa niente, però vi farò un esempio per spiegarmi meglio. Noi sappiamo che questo cervello non ce lo siamo scelti. Ad esempio, noi non abbiamo scelto di fare cacca. La cacca è un regalo, un prezioso regalo della natura. Noi possiamo scegliere di non farla in salotto, ma non possiamo scegliere di non farla. Così dovremmo imparare a considerare l'autocritica come una funzione che non abbiamo scelto. Un processo automatico che agisce dentro di noi, anche se nelle nostre esperienze di vita nessuno ci ha parlato in modo critico. Quindi è una funzione che non dipende tantissimo dalla nostra volontà, ma vi dirò, anche se può sembrare paradossale, che ha uno scopo protettivo. Cioè lo scopo dell'autocritica è quello di... Scusate, non riesco ad andare avanti con le slide, perfetto. E' quello di proteggerci dall'evitare errori o pericoli. Però ve lo voglio spiegare meglio attraverso un esempio, per cui vi chiederò una cosettina. Avete per caso carta e penna? Se riuscite a prenderlo, comunque avete qualcosa con cui scrivere. Vi faccio fare un piccolissimo esercizio. Intanto prendetela quando siete pronti. Però intanto facciamo, prima di fare un piccolissimo esercizio, facciamo anche un piccolissimo esempio. C'è un tasto che non mi va e non riesco a capire perché. Ah, ok, quindi devo fare così. Ok. Allora, intanto immaginiamo uno scenario. Immaginiamo di essere catapultati a milioni e milioni di anni fa. Siamo degli esploratori della giungla, ok? Stiamo camminando lungo un sentiero nella giungla per arrivare a una direzione. Camminiamo, camminiamo per ore e a un certo punto sentiamo dei rumori dietro a un cespuglio. Molto probabilmente la nostra mente entrerà immediatamente in allarme per dirci stai attento, ci potrebbero essere dei pericoli, potrebbero esserci degli animali feroci che non hai considerato. Questi tipi di affermazioni sono affermazioni, come dire, affermazioni critiche, no? Che ci stanno avvertendo rispetto alla possibilità di un pericolo. Quindi non sbagliare, stai attento. Cerca di fare le cose bene. Stai attento, potrebbero esserci degli animali feroci. Oppure stiamo camminando nella giungla e la paura è quella di perdersi, per cui se ci dicessimo e se non hai, e se sbagli strada? E se ti perdi? Tutte queste sono affermazioni critiche che il nostro cervello ci pone con un intento, che è quello di proteggerci da rischiare, ad esempio, di metterci in pericolo di vita. Ora, anche se noi non viviamo più nella giungla, perché non siamo più in pericolo di vita, come potevano essere i nostri antenati, abbiamo ereditato questo sistema. E questo sistema utilizza, cioè il nostro cervello utilizza lo stesso sistema per proteggerci dalle situazioni che percepiamo come pericolose. Anche se non siamo in reale pericolo. Ora vi dirò proprio... Quindi, adesso questa slide l'ho messa, non sto andando in coerenza con le slide, però anche se non viviamo più nella giungla, insomma, utilizziamo la stessa funzione, che ha una base e un obiettivo, quello di salvarci da un pericolo. Cerchiamo di capirlo meglio attraverso questo esercizio. Vi chiederò, se vi fa piacere, di chiudere gli occhi e di provare a immaginare una situazione recente in cui avete commesso un errore o non siete riusciti a fare qualcosa come avreste voluto. Quindi immaginatevi di essere lì, in quella situazione e provate ad ascoltare il dialogo interiore, quindi quello che vi dite in quel momento. Ascoltate anche l'effetto che fanno quelle parole e se c'è qualche parola che arriva in modo automatico durante il momento in cui avete commesso un errore, un grave errore. provate a percepire le sensazioni che vi crea il dialogo, ma anche il tono, la voce, il tono di voce che utilizza questo dialogo interiore. Quando siete riusciti a captare qualche parola provate a scriverla in quel foglio intanto se c'è qualcuno che avete sentito qualche parola? Chiederò a Alison se per un secondo può interrompere la registrazione però che cosa stiamo notando anche attraverso questo piccolissimo esercizio e questa riflessione è che il processo dell'autocritica agisce comunque, come ci ha detto qualcuno di voi è una roba automatica, è una cosa intrusiva ci dice qualcosa ma che fai, sei una cogliona, sei un'incapace ma basta, che palle con un intento quello di non farci commettere più quell'errore andare avanti, migliorare, crescere oppure non fare più quello che abbiamo fatto quindi c'è una parte positiva ma che cosa scopriremo? che nonostante il fatto che noi vogliamo proteggerci dall'essere esposti a dei rischi o dai fallimenti e nonostante il fatto che questa funzione tornando agli esploratori ha avuto un ruolo utile nella nostra evoluzione perché? Perché ci ha permesso ad esempio di salvarci da dei pericoli di vita ha una funzione importante ma si attiva ad un ruolo anche in situazioni che non sono realmente minocciose come quando commettiamo un errore eccetera perché scopriremo che è più dannosa a questo punto che non utile? perché quando diventa eccessiva ci manda in uno stato di allarme in uno stato di allerte e tensione tale tale da farci davvero sentire in pericolo di vita e il più delle volte otteniamo l'effetto contrario rispetto a quello che in fondo in fondo vorremmo ottenere fin qui più o meno è chiaro però vi aiuterò a capirci ancora meglio se mi funzionasse questo tasto no così ok allora vediamo qua vi farò questo piccolo spiegone ma secondo me è abbastanza interessante partendo dai mammiferi per farci capire proprio come funzioniamo qualsiasi mammifero prima di sviluppare una mente più cognitiva interagisce con l'ambiente in funzione di tre principali compiti di sopravvivenza come cosa in assoluto più importante si protegge dalle minacce ci sono dei pericoli mi devo difendere quindi individuiamo in questo caso il mammifero ne immaginiamo un gatto c'è un cane la prima magari c'è un gatto che sta passeggiando così serenamente in una strada a un certo punto vende un cane la prima cosa che farà quel gatto in assoluto prima di pensare a qualsiasi tipo di altra cosa sarà quella di proteggersi di scappare o in casi in cui sente che può difendersi di attaccare però il primo sistema con cui noi reagiamo è la protezione dalla minaccia il sistema della minaccia dopodiché cosa facciamo andiamo alla ricerca di stimoli e di risorse in questo caso cibo oppure ci riproduciamo e poi ci rilassiamo digeriamo così è come funziona il sistema di ogni mammifero e come funzioniamo anche noi aspettate oddio ok quindi guardate questi tre sistemi noi prima di qualsiasi altra cosa abbiamo bisogno di sentirci al sicuro perché se c'è un pericolo la prima cosa che si attiva è il nostro sistema di allarme quello rosso pericolo se in pericolo devi salvarti la vita devi fuggire scappare attaccare dopodiché ricerchiamo stimoli risorse e se siamo in condizioni così fortunati da avere un ambiente che ci mette nelle condizioni tali per ci rilassiamo ci sentiamo al sicuro appagati ora guardate ve lo vedete se lo allargo ok guardate il volto di questa donna cosa vi trasmette felicità felicità dove potete immaginare che lei sia al mare al mare ehi non pensate che possa essere in pericolo sta ragazza no no è totalmente appagata in una situazione di relax totale anche in assenza di desideri totalmente al sicuro ok se questi tre sistemi funzionassero così in equilibrio quando c'è un pericolo ci difendiamo eccetera quando abbiamo un bisogno ci cerchiamo i nostri stimoli per andare avanti nella nostra vita quando abbiamo bisogno ci rilassiamo proviamo calma e serenità non saremo neanche qui a parlare perché andremo in tutto perfettamente se questi sistemi questi tre tutti fossero in equilibrio e invece che cosa succede che a differenza dei mammiferi allora per quello che noi ne sappiamo per quello che non ne sappiamo i mammiferi in questo caso abbiamo messo abbiamo messo un bel leoncino e un leone se non riesce a procacciare la sua preda non penso che inizierà a criticarsi perché è troppo grasso perché è troppo lento perché non è riuscito a portare del cibo alla sua famiglia non succederà perché perché non ha per quello che noi ne sappiamo un senso di sé quindi non ha sviluppata questa parte cerebrale un senso di sé un dialogo interiore che lo muove verso la critica per cui cosa succede che il sistema di allarme di questo mammifero si atti quello rosso si attiverà solo ed esclusivamente quando percepisce degli stimoli esterni minacciosi quindi quando c'è qualcuno che lo mette realmente in pericolo all'esterno e la bella differenza con noi e qua è per questo che vi ho messo tutto questo sistema sballato è perché noi siamo in grado di attivare il sistema di minaccia di allarme di protezione della minaccia dall'interno e questo pezzettino qua che è l'autocritica ok è una funzione che agisce dall'interno quindi come una base un istinto di base di protezione in realtà non fa altro che attivare un sistema di allarme dall'interno immaginatevi che è come se noi avessimo una parte di noi che bullizza un'altra parte di noi ok per cui noi esseri umani avendo questa funzione cerebrale cultiva avendo un dialogo interiore un senso di noi stessi siamo in grado da noi stessi di attivare un sistema di protezione dalla minaccia e quindi di allarme da soli senza stimoli esterni cos'è quali sono le conseguenze più gravi no che andiamo incontro sicuramente che questo sistema di sicurezza di appagamento eccetera si depotenzia diventa più piccolino e ci manda in tilt in questo modo questo è il sistema che depotenziato così non ci permette proprio di provare calma perché perché in noi è attivo un sistema di protezione dalla minaccia è come se qualcuno ci stesse puntando una pistola quindi siamo in grado di procurarci allarme e tensione ed è per questo che non riusciamo poi a mandare avanti quelli che sono i nostri obiettivi è come affrontare la nostra continuità con serenità questo invece è un sistema fondamentale il nostro cuore è più calmo più regolato c'è un aumento della produzione di ossitocina che è proprio l'ormone dell'amore del benessere e quando è che si attiva dentro di noi si attiva sia come questa ragazza quando probabilmente è in un ambiente che glielo permette in un contesto rilassante sicuro ma sia anche quando proviamo delle esperienze di affetto da parte di un altro di una persona cara che ci ama di accettazione di gentilezza quando riceviamo amore e comprensione scusate ogni volta quando riceviamo amore e comprensione quando entriamo in contatto con qualcuno che ci conforta che ci fa sentire amati che ci dice che può aiutarci ad esempio vedete anche questo abbraccio di questi due bambini e proprio permette di attivare questo sistema di sicurezza ora abbiamo una buona e una cattiva notizia allora la cattiva è che noi non possiamo purtroppo eliminare l'autocritica perché intanto perché proviene da un sistema protettivo della come dire da un tentativo di proteggerci da un pericolo e quindi non possiamo eliminarlo e poi il fatto stesso di lottarci di scacciarlo via no non devo fare così eccetera non fa altro che attivare il sistema e quindi non fa altro che mandarci nuovamente in allarme questa è la cattiva la buona è invece che questo sistema è comunque già dentro di noi cioè che noi ce l'abbiamo che fa parte di noi fin dalla nascita tutti noi abbiamo un sistema che si basa sulla difesa ma anche un sistema che si basa sul ricevere e dare cura ora perché vi ho fatto l'esempio degli altri che ci danno affetto amore calore perché è più facile pensarci quando riceviamo o diamo cura ad alle altre persone il rapporto di cura con noi stessi non ci viene spontaneo è l'ultimo dei rapporti che ci viene da coltivare perché perché nessuno ce l'ha mai insegnato fondamentalmente o ce l'ha insegnato molto poco quello che ci aiuta è considerare l'autocritica come essa stessa una parte sofferente di noi che nonostante tutto cerca di salvarci la vita ma che si sta rapportando a noi in modo sbagliato quindi trattare con cura sembra sembra anche qui un paradosso ma trattare con cura questa parte di noi che consideriamo come sofferente ditemi sempre se c'è qualcosa che non è chiara con quali ingredienti li trattiamo con cura con la compassione ora vi ho detto prima non so se ve l'avevo accennato prima ve lo volevo dire comunque tutti questi concetti sono concetti che fanno parte di un approccio teorico che si chiama compassion focus therapy ve lo dico perché perché se avete bisogno di avere informazioni maggiori se volete prendere insomma spunto magari mi potete anche scrivere io vi consiglio qualcosa da leggere comunque torniamo a questo ingrediente questo termine compassione in italiano suona male un po' suona male perché ha un rettaggio un po' culturale ma anche religioso per cui per le persone più fedeli magari è più insomma si sente di più in realtà per chi invece non crede insomma sempre a volte può essere considerato un po' strano in realtà infatti è più figo dell'inglese no? compassion in realtà la compassione è proprio esattamente la sensibilità alla sofferenza per noi stessi e anche per gli altri unita a un impegno e il coraggio di prevenirla e curarla cioè è vedere come stanno realmente le cose nel nostro cervello cioè il cervello è un gran casino come non abbiamo scelto una macchina che ci troviamo tutti a guidare senza avere delle istruzioni e spesso si presentano delle funzioni che noi non siamo in grado di comprendere e l'unica cosa che siamo in grado di fare è darci addosso se provassimo se provassimo invece a trattarci con cura incoraggiarci ad esempio riusciremo un po' a rimandarci in una situazione di calma e di sicurezza che con lo stesso sistema verde che aumenta e ci permette di stare in equilibrio e affrontare con più facilità la vita ora vi farò un altro esempio per farvi capire meglio come funziona immaginiamo non so per qualcuno di voi sarà più facile perché magari qualcuno di voi ha figli però anche per chi non dovesse averli immaginiamo di avere un figlio che amiamo tantissimo e che dobbiamo scegliere se dobbiamo scegliere in che scuola iscriverlo e tra le scuole che andiamo a vedere ci sono due scuole una è rappresentata dal vostro sé critico e l'altra è rappresentata dal vostro sé più compassionevole nella prima scuola vi accoglie un predile che ha le sembianze di un mostro tutto arrabbiato e quando barcate questa porta di ingresso lui dice noi qui noi insegnanti qui crediamo che la critica dura e il giudizio costante siano l'unico modo per spingere i bambini a migliorare questi insegnanti diranno dai a noi tuo figlio e quando gli sbaglierà gli diremo che è inutile che non va bene mostreremo rabbia disprezzo lo scuoteremo lo picchieremo per farlo migliorare quando fa un errore gli diremo non sei abbastanza bravo hai fallito di nuovo non ce la farai mai sei un incapace prima scuola seconda scuola venite accolti da un preside gentile con gli occhi dolci che sembra una fatina e vi dirà se porti da noi tuo figlio noi lo accoglieremo con gentilezza in questa scuola quando un bambino commette un errore viene incoraggiato viene aiutato a trovare dei modi utili per migliorare senza mai sentirsi inadeguato gli diremo che non deve essere perfetto ma che è quello che conta e che sta facendo del suo meglio e che i suoi errori sono solo parte del suo percorso di crescita quale scuola scegliereste per vostro figlio? la seconda meno male no però però la seconda quindi sappiamo tutti benissimo che per permettere a nostro figlio di crescere in una maniera cioè per crescere bene per provare del benessere della gioia deve essere incoraggiato aiutato non trattato strattonato picchiato trattato con le cattive diciamo quello che riusciamo a comprendere nei confronti di una persona che amiamo tantissimo immaginatevi anche di rapportarvi con un amico carissimo a cui volete estremamente bene molto probabilmente se lo vedete commettere un errore o se vi chiede un consiglio noi gli diremo coraggio può succedere vai avanti non ti preoccupare ed è questo quindi questo sistema ce l'abbiamo soltanto che con gli altri non lo usiamo con noi lo usiamo con gli altri e ci dimentichiamo con questo sistema ma ce l'abbiamo quindi la realtà dei fatti è che se noi vogliamo davvero aiutarci a migliorare l'atteggiamento più coerente sarebbe proprio quello anche di prenderci cura di quella parte critica e dirle non è così che mi aiuti stai soffrendo hai bisogno di essere incoraggiato hai bisogno di te ok mi piacerebbe non so se fin qua è tutto chiaro se avete dubbi bene se vi fa piacere faremo un esercizio finale per cercare di entrare maggiormente in contatto con una parte più compassionevole di voi ok lo faremo però aiutandoci con l'immaginazione e quindi vi chiederò prima di tutto di pensare cioè dovremmo immaginare la parte di noi compassionevole però la dovremmo dovremmo in qualche modo immaginare una creatura una creatura compassionevole potrebbe essere l'immagine che volete dobbiamo cercare una figura un personaggio potrebbe essere potrebbe essere anche un personaggio dei cartoni animati un personaggio di un film che vi piace però qualcuno che assomigli più al preside della scuola quello il secondo c'avete qualcuno che vi viene in mente? dopo l'Iru eh no va bene va bene va benissimo una cosa del genere c'è qualcuno che vi trasmetta gioia serenità pace tranquillità ok quindi se tutti ce l'abbiamo datemi un sì perché poi inizierò a chiedervi di chiudere gli occhi e vi farò e vi guiderò io attraverso la mia voce sì 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 ok sì sì bene allora partiamo allora quando vi farò fare questo esercizio di immaginazione vi chiederò di sedervi comodi sulla sedia con i piedi ben ancorati a terra quando ve la sentite chiudete gli occhi e iniziate a fare dei bei respiri provate a respirare a sentire il ritmo del vostro respiro come se esso stesso potesse un po' rassicurarvi quindi provate a trovare un ritmo fluido e armonico del respiro concentratevi sull'aria che entra dal naso l'aria più calda che entra scusate l'aria più fresca che entra e l'aria più calda che esce sentite il petto che si gonfia e che si gonfia e provate anche a percepire i punti di contatto del vostro corpo con la sedia per cui provate a sentire la schiena le sensazioni le sensazioni della schiena a contatto con la sedia le sensazioni dei vostri glutei a contatto con la sedia le vostre gambe i vostri piedi sentite proprio la sensazione di contatto dei vostri piedi con la scarpa con il pavimento col calzino e poi provate a immaginare a percepire tutto il vostro corpo dalla testa ai piedi un corpo che respira e ora vi chiederò di portarvi con la vostra immaginazione in un luogo che vi trasmette serenità potrebbe essere un luogo immaginato oppure un luogo vostro dove siete stati che dove percepite avete percepito serenità vi chiederò di tornare lì e con un po' di immaginazione di immaginare che anche lo stesso luogo provi piacere nell'avervi lì come se potesse fare un grande sorriso perché questo sarà il luogo dove incontreremo la nostra immagine compassionevole qualsiasi immagine vi giunga alla mente tenete presente che è la vostra creazione e quindi incarna un ideale e una figura da cui vorremmo tantissimo sentirci amati e da cui siamo amati oggetto di attenzioni premurose proviamo a immaginare di averla davanti a noi e ci sorride e si mette a una distanza ideale ci guarda con un'espressione di grande affetto di calore e immaginate che attraverso la sua espressione del viso possiamo comprendere che ha il desiderio di che noi stiamo bene che noi siamo felici liberi da qualsiasi sofferenza e ora proviamo ad attribuire a questa figura delle qualità questa figura è saggia sa che ci siamo trovati in questa vita alle prese con un cervello che non abbiamo scelto con delle esperienze di vita che ci hanno cambiato ma che non abbiamo scelto comprende la nostra vita la comprende davvero comprende quello che abbiamo fatto per difenderci comprende le nostre paure perché essa stessa questa creatura in qualche fase della sua evoluzione ha attraversato le nostre stesse esperienze sa quello che stiamo provando si è evoluta proprio grazie a queste esperienze e comprende davvero tutte le numerose battaglie che abbiamo dovuto affrontare nella vita sa che ci siamo tutti trovati semplicemente qui in questa vita cercando di fare il meglio che possiamo con le risorse che abbiamo non è critica non è giudicante ci accetta esattamente così come siamo è una creatura forte non è sopraffatta dal nostro stress dal dolore ma desidera solo rimanere presente e affrontare la sofferenza insieme a noi prova un reale apprezzamento nei nostri confronti e si preoccupa tiene a noi in modo incondizionato e ha un grande impegno nei nostri confronti un desiderio di aiutarci ad affrontare ad alleviare la sofferenza e sperimentare più gioia nella vita ora questa figura vorrebbe dirci qualcosa provate a immaginare che possa dirvi qualcosa che è esattamente ciò che avremo bisogno di sentirci dire in questo momento della vita proviamo ad ascoltare con cura quello che ha da dirci proviamo a osservare il suo sorriso nel mentre che ce lo dice e stiamo con quel sorriso con quel volto rassicurante forse anche noi vogliamo dirgli qualcosa questa creatura è lì per ascoltarci completamente profondamente qualsiasi cosa vogliamo condividere se c'è qualcosa di irrisolto una questione irrisolta proviamo a immaginare cosa ha nella sua mente rispetto a quella questione cosa pensa riguardo e te lo dica o meno tra un pochino questa creatura se ne andrà ma prima vorrebbe darci qualcosa forse un oggetto un piccolissimo oggetto materiale lo posa nelle nostre mani aperte o semplicemente appare nelle nostre mani che cos'è osserviamolo bene e adesso ringraziamola magari diamogli un abbraccio assaporiamo la compagnia la sua compagnia per alcuni attimi ancora e poi salutiamola e adesso siamo noi nel nostro posto sicuro ma forse siamo un pochino meglio un po' più protetti ricordiamo che questa creatura qualsiasi forma essa abbia è una parte di noi per cui possiamo invitarla a tornare in qualsiasi momento e adesso vi chiederò quando vi sentite pronti di aprire gli occhi provare a prendere quando vi sentite pronti provate a prendere carta e penna e provate a scrivere cara caro il vostro nome è una parola sotto quella critica sotto dove avete scritto è una parola che riguarda quello che vi ha detto cara batilde carangelina cara sonia una parola e c'è per che si C'è qualcuno coraggioso che ha voglia di condividere questo? C'è qualcuno coraggioso che ha voglia di condividere questo? Vedo una domanda, ciao a tutti scusate mi sono presi i primi 20 minuti, qualcuno mi può fare un riassunto? No però diciamo a Sofia che ci sarà la registrazione per cui se dovesse esserci ancora non riesco a vederla però vabbè insomma per tutti poi avremo la registrazione. Anche degli altri eventi che ci sono stati ci saranno le registrazioni? Ci sono, ci sono di tutti, dovreste trovarle su YouTube se non sbaglio. Ok, grazie. Allora, intanto prima di lasciarvi, io vi ringrazio. Io vi ringrazio, spero che questo mini apericognitivo vi sia stato anche solo un tantino utile per poter poi provare a iniziare a sviluppare un pochettino più di compassione verso noi stessi. Quindi a ricordarci che questa creatura ogni tanto richiamarla alla nostra attenzione e provare a immaginare di averlo fatto in campo e chiederci ma lei in questo momento cosa ci avrebbe detto? Ok, intanto vi presento il prossimo incontro che invece riguarda la psicologia dello sport per cui chi ha voglia di iscriversi sarà il benvenuto con la dottoressa Francesca Fusina. Interrompo di nuovo la condivisione e se non ci sono domande vedo un altro. Grazie infinite dottoressa Lusso, grazie. Grazie, è stato molto utile. Grazie del tempo. Grazie a tutti, anche della condivisione con gli altri che è sempre molto utile.